Allora, intanto invito a prendere posto i panelisti di questo ultimo appuntamento. Io ringrazio molto Massimo e tutti voi di averci chiesto di farvi da aperitivo dolce amaro, ecco per così dire, perché saremo un po' outspoken, cioè parleremo nello stile in cui interpretiamo questo appuntamento annuale. La nostra interpretazione, che è eterodossa, ma spero non vi dispiace, non dispiace al Presidente, è che questo ai nostri occhi negli anni ha finito per assumere tutte le vesti e le caratteristiche di un vero antisalone del risparmio. Perché? Perché è meno ingessato, è meno formale e consente a tutti di andare anche al punto di alcune questioni utilizzando un linguaggio, diciamo così, meno formalmente votato a non vedere alcuni problemi della realtà del risparmio nel nostro Paese. Quindi io vi ringrazio di questo e quindi invito intanto a prendere posto il Professor Carlo Alberto Carnevale Maffè della Università Bocconi, il Professor Pasquale Cirillo, vi invito ad applaudire ciascuno della Deft University of Technology, Salvatore Cozzolino, analista finanziario per Intesa San Paolo, il Professor Riccardo Puglisi dell'Università di Pavia e infine Massimo Siano di ITF Securities. Professor Riccardo Puglisi, la sua opinione è, cosa non dicono i giornalisti ai risparmiatori e perché? Buongiorno a tutti, ringrazio Massimo Scolare e Ascusim e ringrazio Oscar per questo invito. I giornalisti dicono e non dicono e bisogna avere il tempo e la voglia di indagare perché dicono quello che dicono e non dicono quello che non dicono perché spesso le caselle sono, le pedine sono nelle caselle sbagliate, nel senso che non dovrebbero dire certe cose e invece dovrebbero dirne certe altre. Quindi in generale il mio giudizio sui giornalisti economici in Italia è molto pesante e piuttosto negativo in media, quindi mi salvo con la statistica dicendo che in media è negativo. E vorrei seguendo quello che dice Oscar, che ha detto Oscar e prendendo spunto, vorrei trattare qualche questione in sequenza. Non ho slide perché già mi bastano quelle all'università, ma vi presento quattro punti e velocemente ve li descrivo. Allora io vorrei parlarvi di ordini di grandezza, vorrei parlarvi di correlazione contro causazione, vorrei parlarvi di qual è il target dei lettori ascoltatori che si deve avere in mente e infine vi vorrei parlare del tema del bias, cioè la distorsione dei giornalisti verso qualche direzione. Quindi vado per veloci cenni. Ordini di grandezza, la prima cosa quando si hanno in testa delle cifre è sapere se una cifra è grande o grossa. Ordini di grandezza è il termine che usano gli ingegneri, ma la traduzione di ciò per gli economisti, per coloro che sono addetti all'economia e per l'uomo della strada, layman, è quanti zeri ci sono. Qui se non abbiamo ben presente questo perdiamo completamente l'idea della rilevanza dei fenomeni, perché quello che io insegno a lezione è questo, il PIL italiano è all'incirca 1700 miliardi di euro. Partiamo da questo, qual è l'unità di misura in questo mondo italiano? Purtroppo non cresciamo molto, ma l'unità di misura è l'1%, tanto per farsi un'idea che è 17 miliardi di euro, 18 quello che è, a seconda di che misura del PIL utilizziamo. Benissimo, qualcosa che è un per cento di PIL è tanto, qualche cosa che è sotto è poco, esempio, ero a Omnibus qualche giorno fa a parlare del part time che ha introdotto in legge di stabilità riguardo all'andare in pensione un po' prima rispetto al giusto aumento dell'età pensionabile deciso dalla legge Fornero e c'erano dei titoli di giornale, svolta epocale, intervento pazzesco, Repubblica, svolta epocale, anche altri giornali avevano questa impostazione. Se vai a vedere in legge di stabilità, questa roba qua vale in un anno 80 milioni di euro, l'altro anno ne vale 160 milioni di euro, quindi pochissimo rispetto, per esempio, ad altri interventi come la Tasi, la cui abolizione costa 3 miliardi e gli 80 euro che costano 9 miliardi, quindi all'incirca un punto di PIL. Quindi se non si hanno una buona idea degli ordini di grandezza possiamo andare a casa tutti tranquillamente perché non sappiamo neanche dove andare e queste sono cose da dirsi. La seconda e il secondo elemento che deve essere detto e che non viene detto è la tentazione di confondere, che hanno tutti, hanno anche quelli che fanno ricerca in università e altrove, di confondere la correlazione con la causazione, cioè se due fenomeni vanno insieme, tipicamente fenomeni sociali, se non puoi fare un esperimento come si fa in medicina o in fisica, bisogna stare ben attenti a dire che qualche cosa causa qualcos'altro, perché altrimenti fai finta che i dati ti dicano molto di più di quello che è vero. Cioè il paradosso potrebbe essere, beh allora, gli ospedali, gli ospedali ci sono tanti malati, dunque gli ospedali causano le malattie. Nel senso, questi sono un esempio estremo, oppure un altro esempio è, oh guarda, andiamo a vedere di quanto aumenta il tuo salario nella vita a seconda di quanti anni di istruzione formale hai seguito. Vado a vedere e cerco di stimare un rendimento, quindi una grandezza finanziaria. Però mi dimentico del fatto che c'è l'abilità sottostante, perché un individuo più abile, di solito ha più facilità a passare più tempo in istruzione formale, e dall'altra parte sveglia e guadagna di più, quindi il rischio è di sovrastimare l'effetto. Questi sono ragionamenti che si possono esprimere in maniera matematica, ma si possono tranquillamente illustrare, come ho fatto adesso, con delle frasi. Il problema è che i giornalisti vogliono raccontare una storia, quindi ti piantano dentro delle cose che sono solo mere correlazioni, e ti raccontano che questo causa questo, spesso malinterpretando degli studi esistenti. L'altro tema è questo, secondo me bisognerebbe, i giornalisti, il terzo tema di cui vorrei parlarvi, è relativo a quali risparmiatori, quali cittadini hanno in testa i giornalisti quando parlano. La questione è la seguente, bisogna capire se quello che fanno è per colpa o per dolo. Passiamo alla prima interpretazione, la colpa è questa, di pensare che i cittadini risparmiatori abbiano tutte le conoscenze necessarie per capire riferimenti velocissimi a qualcosa. Quindi io ti dico qualcosa, tanto lo sai, sai tutto il background, quindi ti dico velocemente quello che ti devo dire, e tu capisci. Il problema è che no, non è vero, cioè non bisogna neanche avere in mente il lettore medio, bisogna avere in mente il lettore mediano, ma neanche, bisogna avere in mente un lettore, un cittadino, un risparmiatore sotto la mediana, dal punto di vista delle competenze, perché se sbagli al massimo sei un po' noioso, ma almeno spieghi i concetti. Faccio un esempio anglosassone, perché ho un certo amore per il giornalismo anglosassone nei suoi vari aspetti. L'economist, che probabilmente molti di voi leggono, è fatto così, ti nomina Obama, Obama tendenzialmente sappiamo chi è, di fianco, la prima volta in cui nomina Obama in un articolo ti dice the President of the United States, cioè ti dice chi è, perché, come dice, ipotizza che l'articolo deve essere informativo, quindi non devi fare riferimento a qualche altra strana o non strana conoscenza che tu hai da fuori, te lo deve dire l'articolo. Dall'altra parte ci potrebbe essere anche un elemento di colpa grave se non dolo, ovvero sia, io non ti parlo del background, non ti parlo degli elementi che ti fanno capire e che vanno bene per un lettore che non ha tanta informazione, per un motivo molto semplice, che non lo sa il giornalista. Cioè il giornalista non lo sa, ti racconta una cosa mal digerita e te credo che non ti va a raccontare il background, perché non lo sa. E quindi il problema è come si fa a capire che non lo sa, beh, come si dice, dopo un po' si capisce sostanzialmente. Per esempio, vi faccio un esempio, confondere il livello del PIL con il tasso di crescita. Oh, il livello sono i miliardi, il tasso di crescita cosa vuol dire? Vuol dire una percentuale. Non mi puoi dire quest'anno il PIL è negativo, cioè puoi dirmelo. Però mi viene il sospetto che tu possa veramente pensare che in un anno la produzione di beni e servizi sia negativa, cioè la gente distrugge per tre miliardi della roba e non produce niente. Questo è purtroppo il timore e il sospetto che mi viene. Ultimo punto, il bias, questo è il tema di cui in realtà io mi occupo in termini di ricerca, perché io analizzo la posizione politica dei giornali, cioè vado a vedere di che argomenti parlano, argomenti favorevoli più a una parte, più all'altra, parlo dell'economia, quando c'è il presidente che mi è antipatico, parlo dell'economia quando il presidente mi è simpatico, eccetera. Ci sono vari modi replicabili con i cosiddetti big data, come per esempio si riempirebbe la bocca un giornalista che non voglio nominare Gianni Riotta. Big data, quindi cosa faccio? Prendi tanti dati e utilizzi questi per cercare di capire qual è la posizione ideologica, con questa idea banale, che il bias non è assoluto, perché è difficile pensare intersoggettivamente a una verità. Il bias è relativo, c'è qualcuno più di sinistra e qualcuno più a destra, punto. Quindi questa è la questione. E la questione è che allora i bias li vedi, in certi casi sono bias che per esempio sono rilevanti dal punto di vista dei mercati finanziari. A mio parere ci sono, tranne nelle fasi di crisi, in cui ci sono i titoloni a cinque colonne sul fatto che sono stati bruciati 700 miliardi di euro, eccetera, eccetera, in generale c'è un certo bias rialzista, nel senso che, diciamo, i giornali, specialmente gli investitori pubblicitari, che sono le imprese, hanno piacere al fatto che si parli bene e che si menzionino le imprese, anche perché c'è della ricerca empirica interessante, che ti dice questo, che le azioni nominate sui giornali tendenzialmente aumentano di prezzo e quindi tra l'altro attenzione che perché poi il rendimento futuro è più basso, perché in realtà vengono pompate troppo. Il pompaggio avviene anche in ambito politico. Io come esempio rilevante da far raccoponare la pelle che mi viene in mente è questo. A un certo punto c'era un dato sulla fiducia dei consumatori, dato rilevante, come sapete, per cercare di prevedere come va l'economia nel futuro, fatto così. Allora, l'aumento era stato da 119 a 120, forse anche un po' meno. Questa era la notizia. Cioè, chi prende dal punto di vista statistica è come dire piatto. Cioè, prendi qualsiasi statistica e questa roba lì è piatta. Titolo del Tg1, che ha la pessima tendenza a essere molto governativo, c'era la notizia commentata con tipo una freccia a 45 gradi che andava così. Quindi, attenzione, la gente cosa ascolta? Ascolta dal 119 vai al 120 o va di al freccione a 45 gradi? E quindi la questione è che bisogna stare attenti al bias. Per esempio, io ho fatto un po' di ricerche con il mio autore Marco Gambaro, per esempio sulla pubblicità comprata dalle imprese sui giornali, beh, capita che quanto più le società quotate comprano, lo studio sulle società italiane, quanto più le società quotate comprano pubblicità sui giornali, tanto più quei giornali stessi parlano di più di quelle imprese. Quindi, attenzione, c'è anche questo elemento di informazione potenzialmente drogata. Questi sono elementi a cui badare. Anche perché queste sono appunto ricerche empiriche pubblicate, eccetera, eccetera. Chiudo, mi scuso se ho preso troppo tempo e se mi sono infervorato, ma siccome ci vuole. Il problema è se poi, diciamo, anche le istituzioni che potrebbero avere degli incentivi pubblici più forti dei giornalisti, perché i giornalisti sono molti, diciamo, persone che lavorano presso imprese private, però il problema è quando, e quindi mi collego con preoccupazione a quello che ha detto Oscar prima, il problema è quando istituzioni venerabili come la Banca d'Italia o la Consum, ma in particolare la Banca d'Italia, fanno cattiva informazione. Perché allora, se dal punto di vista politico per tanto tempo la Banca d'Italia è stato il faro che ha spinto un po' la politica italiana, per certi versi, spesso con l'appoggio di una persona come Ugo Lamalfa, come Andreatta, ha spinto la politica italiana a essere più responsabile. In questo periodo io sinceramente rimango abbastanza esterrefatto con Oscar del fatto che la Banca d'Italia faccia delle cose del tipo dire, ah no, per quanto riguarda la risoluzione, il bail-in, la Commissione europea non ci ha dato scelta. Perché parlo di questo quando parlo di giornalismo? Perché l'hanno scritto come comunicato stampa, cioè questo è quello che è successo. Dopo, adesso non so la sequenza delle ansa, però tipo la stessa mattina arriva la Commissione europea che dice, no non è vero, avevate tre opzioni. Cioè adesso sinceramente tengo presente che dal punto di vista sistemico forse conta la domanda, cioè conta il fatto che anche i cittadini siano più consapevoli eccetera eccetera, ma le istituzioni, i giornali e anche le istituzioni governative dovrebbero stare attenti al fatto che la qualità dell'informazione è cruciale per tante cose e molto probabilmente anche per la crescita economica. Grazie. Su questo, il professor Pasquale Cirillo, che è uno statistico di vaglia, io gli chiedo di capire un pochino, ma a questo pubblico di consulenti, il rischio finanziario in una condizione come quella dei mercati oggi, in Italia, con i problemi che abbiamo visto, ma anche generale, dal punto di vista di un accademico, quali sono i punti in cui si distillano alcuni messaggi che vanno bene per i consulenti finanziari. Professore. Per prima cosa, grazie dell'invito, è un piacere essere qua. Allora, sì, io sono uno statistico, il mio campo di ricerca è il rischio e per giunta il rischio estremo, cioè mi occupo di cosiddetti eventi a coda grassa. Ora, una cosa... Cioè i cigni neri. I cigni neri, siccome ama chiamarli il mio cautore. Allora, qual è il problema del rischio? Il rischio è che è sempre stato visto e in questo particolare momento storico ancora di più come qualcosa di brutto, diciamolo proprio da terra a terra, qualcosa di brutto, qualcosa da evitare. Vogliamo tutti i rendimenti al 20% con rischio zero. Bellissimo, ma non è possibile. Il problema è che noi dovremmo capire che il rischio in sé non è né buono né cattivo. Il rischio è qualcosa che può essere utilizzato a nostro vantaggio. Poi ci saranno sempre dei rischi che non possiamo utilizzare a nostro vantaggio e verso i quali cerchiamo di proteggerci. Ora, io ho una storiella molto semplice per voi che, come vedrete, è basata su un uso sfrenato di formule matematiche, perché è il mio lavoro. Allora, questa storiella è la seguente. Ci sono due amici su un dirupo, su un canyon. Immaginate che siano al Grand Canyon, così vi faccio vedere che so anche disegnare. Allora, ci sono due amici su questo Grand Canyon. Stanno guardando il fondo del canyon. Come vedete, uno è più prudente sulla pancia, l'altro è più spavaldo. Chiamiamo questo secondo amico Lehman, o Lehman, se volete. Succede questo. C'era il rischio di cadere, Lehman è caduto. Allora, cosa succede? Fino a questo momento, chi aveva un atteggiamento prudenziale, ma comunque non avverso il rischio, perché stava guardando il fondo del canyon, non aveva avuto nessun problema. Ma sfortunatamente succede che le autorità locali non amano il rischio. Le autorità locali non amano il rischio e costruiscono una ringhiera. Ora tutti sono contenti, si sentono particolarmente sicuri, si appoggiano a questa ringhiera, com'è bello guardare in fondo al canyon. Siamo sicuri, possiamo essere più spregiudicati. Se lo fanno tre persone, lo può fare una folla. Siamo tutti protetti da questa ringhiera. Il rischio non esiste, il rischio possiamo coprirlo, il rischio è brutto. Purtroppo si rompe la ringhiera e cadono ben più di una persona. Ora, questa è una piccola, se volete, parabola. Iniziamo a chiamare le cose con il loro nome. Il fondo del burrone è un qualsiasi tipo di rischio legato agli investimenti, legato alle vostre strategie, legato al vostro lavoro. Può essere il rischio di mercato, può essere il rischio di credito, può essere il rischio operativo. Ci saranno degli agenti che sanno approcciare il rischio, il nostro amico sdraiato sulla pancia, che riesce a godersi i frutti del proprio lavoro, guardare in fondo al burrone o ottenere rendimenti sperati. Qualcun altro che è più spregiudicato e cadrà sotto, è il nostro amico Lehman. Cosa succede? Le autorità amano costruire ringhiere. Costruiscono questa ringhiera. E badate bene, questa autorità può essere, se pensate al rischio credito, il Basel Committee on Banking Supervision. Stanno creando una quantità smodata di regole per cercare di coprirci da questo rischio. Il problema è che questo genera un comportamento avverso. Noi ci crediamo protetti e quindi iniziamo ad appoggiarci a queste ringhiere, ci facciamo forti di queste ringhiere. E succede che questa ringhiera cade. Ora il problema, questo può essere contestualizzato ulteriormente, perché non solo abbiamo le regole a livello centrale come può essere a livello di Basilea, ma possiamo pensare che se quella ringhiera è stata costruita in Italia, quella ringhiera è costruita di carta, cartone. Quindi non solo ci diamo delle regole, ma ci diamo pure delle regole sbagliate. Ora qual è il sunto di questa storia? Il sunto di questa storia è che noi quando ci approcciamo al rischio, dobbiamo sicuramente farlo in modo prudenziale, soprattutto se stiamo gestendo denaro altrui, perché se i soldi sono miei faccio quello che voglio, posso gestirli come voglio e se perdo, perdo. Sarà colpa mia. Ovviamente se lo faccio per un cliente, certamente non si può essere ritenuti colpevoli di perdite, ma l'atteggiamento più prudenziale ha completamente senso. Ora il problema qual è? Siamo davvero sicuri che cercando di coprirci da qualsiasi rischio, cercando di evitare qualsiasi rischio, riusciamo a fare questo? No, perché se riduciamo la variabilità sui mercati, e potrei provarvelo questo dal punto di vista matematico, ma non ho voglia perché annoio già generazioni di studenti, quindi non ritengo giusto farlo con voi, ma se volete possiamo entrare nel discorso. Nel momento in cui noi approcciamo il rischio, dobbiamo capire cosa stiamo facendo. E qui ci possiamo riallacciare, ad esempio, al fatto che serve competenza, serve formazione. Se uno vuole essere un buon consulente finanziario, per prima cosa deve capire il rischio, e non deve assolutamente affidarsi semplicemente alle ringhiere che altri costruiscono per lui, perché questo può generare grandissimi problemi. Quindi da un punto di vista del rischio abbiamo bisogno di due cose. Un atteggiamento proattivo, nel senso che capiamo che il rischio può essere un problema, ma sappiamo anche gestirlo e trasformarlo in un'opportunità. Ricordatevi che sul mercato, dal punto di vista teorico, io non amo molto la teoria della matematica finanziaria, dove facciamo assunzioni del tipo che siamo tutti intelligenti, tutti bellissimi, tutti ricchissimi, che posso costruire un portafoglio shortando tutto quello che voglio, perché sappiamo che non è possibile. Però quella teoria stessa... Anche se, professore, agli studenti gli si insegna ancora il modello CAPM, di equilibrio perfetto, che ha una assoluta caratteristica, è totalmente irreale, ma quello imparano. Esattamente, così come imparano Black & Scholes, sono d'accordo. E io insegno questi modelli. Ho dei corsi online in cui ho accumulato 70.000 studenti in cui insegno queste cose, e certamente li insegno, ma il giorno dopo li smonto completamente. Perché la mia ambizione è di insegnare loro non solo il modello, ma di insegnare loro anche quando non funziona, che è il 99% delle volte. Quando il mondo non è gaussiano o normale, la distribuzione è normale, come ci spingono ad assumere, sbagliando. Quindi il discorso è che serve formazione, serve un approccio a rischio che sia proattivo, quindi non vedere necessariamente il rischio come qualcosa di sbagliato, ma qualcosa che può essere trasformato in una opportunità. Ricordate che nel momento in cui sul mercato avessimo due investimenti senza rischio, quei due investimenti senza rischio non possono coesistere dando diversi rendimenti, perché altrimenti io posso in 30 secondi generare un arbitraggio, e generato l'arbitraggio lo faccio io, lo fa un altro, si chiude la finestra. Nel momento in cui tutti abbiamo lo stesso rendimento, siamo davvero convinti che sia un bene per tutti. Io non credo, perché questo poi potrebbe avere determinate ripercussioni su altri fenomeni dove i miei amici economisti sono più ferrati di un povero matematico. Allora io però credo che questo invito pressante alla formazione per la consulenza, eccetera, eccetera, meriterebbe un applauso, se posso. È un mestiere diverso da quello che fanno gli amici davanti a me. Io devo dire solo tre cose a voi tutti che siete qui. Dissento, dissento e dissento. Sì, perché vi ho ascoltato, ho una sorella che fa il vostro mestiere e non sono d'accordo su tre punti, Massimo. Primo, la domanda. Siccome non l'avete capita. Secondo, il metodo. Siccome non l'avete capito. Terzo, l'oggetto del vostro mestiere. Siccome non l'avete capito. E invece dobbiamo capirlo, perché sono d'accordo con te, Oscar. Siete la speranza della nazione. Per mettere a frutto questi 4 mila miliardi dobbiamo far conto su questa sparuta banda di professionisti, se posso dire, ancora poco coesi. Non gli date retta, è costruttivo. Sembra cattivo, ma non è così. No, no, no. Sono appassionato, perché sono convinto che fate il mestiere più bello del mondo, che è quello di occuparvi del futuro della nazione. Vi affidiamo una vita di lavoro perché venga trasferita alle nuove generazioni. Credo più in voi che nel welfare dello Stato. Ma sono molto esigente, proprio perché mi fido di qualcuno che ci deve mettere molta più passione, competenza e tecnologia. E vengo al tema. Perché non sono d'accordo su domanda, metodo e oggetto. Intanto fammi iniziare con una citazione. Nell'82, un film visionario, Blade Runner, cominciavo con questa sequenza. una faccia particolare di un personaggio si chiama Roy Betty, un Nexus A, che non è un telefono della Samsung, e che veniva immesso nel sistema a Los Angeles in una data particolare, 6 gennaio 2016. Potenza della fantascienza. Vedete? Sapevano già che entrava in vigore la BRRD. Potenza della fantascienza. Siccome siamo già in ritardo di qualche mese, voglio dirvi, questa storia del cyborg, dobbiamo capirla molto bene. Perché io penso che abbiate sbagliato a nominare la domanda? Perché ho ascoltato attentamente tutto il convegno e voi siete ancora qua concependo la domanda come un fenomeno atomico. No, signori, la domanda è un fenomeno organizzato. Dall'altra parte, non ci sono atomi, ma ci sono organismi che stanno sviluppando meccanismi di coordinamento e incentivazione che voi non state controllando. La domanda si organizza. Chiedetelo agli albergatori, chiedetelo ai gestori di flotte. Io in questo palco, 15 anni fa Massimo, venni a quotare un'azione sul mercato, erano i tempi della New Economy, si chiamava Vitamini, che era la prima azienda europea che si occupava di musica digitale. E ricordo che fece la previsione e disse il futuro vedrà una distribuzione musicale totalmente demand side. Non è solo un problema di smaterializzazione di algoritmi, è che sarà la domanda a governare i meccanismi distributivi. Mi dedilo del pazzo. Oggi, se entro in un'aula nella mia università e chiedo ai miei studenti quando avete comprato un cd, la risposta qual è secondo te? No, non è mai. Che cos'è un cd, professore? Perché 15 anni dopo Spotify ha invertito il modello organizzativo. Perché vi dico questo? Perché o salta fuori una teoria della domanda organizzata e della sua capacità di produrre senso e modelli, oppure noi consideriamo ancora il cliente atomico come o un polo da spennare o un asse da tutelare. Mi spiace, signori, il vostro mestiere, l'indipendenza, parte da una teoria della domanda, non dell'offerta. Voi non vi distinguete in quanto indipendenti dall'offerta. Voi siete i rappresentanti della domanda o mi mettete sul tavolo. Una teoria della domanda robusta o se no scusate che ci state a fare. Secondo punto, metodo, trust, e devo promettare la prova, trust, che è il contrario del rischio. Mi spiace ma non credo alla definizione di trust che vedo sulla discussa. Oggi il trust non è un fatto relazionale e personale, è un meccanismo distribuito e codificato. In particolare lo vedo con l'esplosione del social rating, cioè della capacità di attribuire una affidabilità, una competenza, non sulla base dei certificati dello Stato, delle università, degli esami dei professori con tutto rispetto necessari ma non sufficienti. Bensì, essendo il trust un bene relazionale ma anche un bene esperienziale, cioè non lo posso valutare finché non l'ho provato, io ho bisogno dell'autodomanda di questo trust. Ve lo dico perché ormai sono anni che non scegliamo neanche una pizzeria senza consultare TripAdvisor. Vogliamo capire che tutti i beni esperienziali ormai sono stati delegati alla domanda per la loro certificazione? Non entrate, non comprate un libro, non guardate più un film, non comprate più un'automobile senza controllare l'opinione, la Vox Populi. Quindi, se c'è un TripAdvisor a dei pezzeria, ovviamente, arriva e sta già arrivando ed è già arrivato in Inghilterra e in America, il TripAdvisor ha anche dei consulenti indipendenti. Ve lo dico con estrema chiarezza. Sapete come funziona la TripAdvisor che ha i giudizi? Qualcuno ha 5 stelle, quello hanno 5. Se non avete almeno tre palle, guardate che non lo potete fare questo mestiere, minimo bisogna avere tre palle, meglio se 4, 4 e mezzo. Trovate voi il modo. Il terzo elemento riguarda l'oggetto. Ho sentito parlare di capitale, di risparmio, non ci siamo intesi, signori. Data is the new money. Il vero problema dell'advisory robotica è che inverte i fattori di scarsità relativa. Il capitale è abbondante. Il senso, l'informazione, il knowledge estratto dal dato, quello è scarso, quello è scarso, signori. Allora, se vi concentrate ancora sulla gestione dell'abbondanza, deflazionata e a tassi zero, e non vi concentrate sulla gestione della scarsità, cioè il fattore differenziale dell'informazione, che vuol dire valutare il trust, il livello di trust e valutare il livello di rischio, signori, questo mestiere non lo state facendo bene, pensate ancora di vivere di commissioni invece che di conoscenze. Quindi, faccio una breve rassegna di questo punto perché lo sfondo di questo è ovviamente la tecnologia che cambia radicalmente il vostro mestiere per il meglio, purché facciate una scelta di campo irreversibile, stare dalla parte della domanda sotto forma di modello organizzativo, sotto forma di metodo di gestione del trust, sotto forma di oggetto dello scambio. Prima si scambiano i dati, poi si allocano i capitali. E questo è il senso di usare la tecnologia perché nessuna di queste tre cose, una teoria della domanda, un'analisi del metodo del trust, né una gestione del dato, è possibile senza la tecnologia. Allora finiamo la cosa storia del robotic advisory, ma su via. Per me il robotico è come l'elettrico, è come il chimico, è semplicemente una tecnologia trasversale ineludibile. E di cosa stiamo parlando? Dove pensate di andare? Mi sembrate? 15 anni fa le major della musica mi dicevano ma no, ma la gente lo vorrà sempre il pezzo fisico. Auguri! Non è così. Vi faccio vedere un filmatino, proprio pochi, due o trenta secondi, a cui tengo particolarmente. è il futuro del colloquio con un vostro cliente. Vediamo se il vostro cliente riesce a distinguere un advisor umano dall'advisor robotico. Guardatelo, sono 60 secondi straordinari di Ridley Scott. Ho bisogno di... Sei in un deserto, stai camminando sulla sabbia e è l'improvviso al test. Sì, sei in un deserto, stai camminando sulla sabbia e è l'improvviso al test. Cosa? Di quale deserto? Non è importante fare il deserto, è di tutti e tutti come è che non ci provano. Magari sei infastidito o forse volevi stare a quel punto tu o chi lo sa. Guardi in terra e vedi una testugine, arranca verso le testugine. Che cosa? Sai cos'è una tartanuta? Sicuro. Stessa cosa. Mai visto una testugine? Però ho capito, allunghi una mano e riesci la testugine sul dorso. Inventare le domande, signor Olli, oppure gliela scrivi. La testugine giace sul dorso, la sua pancia arrostisce al suo loro velo, agita le zappi cercando di rigerarsi ma lo può. Non senza il tuo aiuto. Ma tu non hai come sarebbe? Sarebbe che non hai perché? Sono solo domande? In risposta al tuo quesito c'è chi descrive per me. È un test che è concepito per provocare una reazione emotiva. Continuiamo. Descrivi con parole semplici solo le cose belle che ti vengono in mente. Riguardo a tua mano, mia mano, sempre. sai che dico di mia mano? Ecco, il cliente ha comprato degli ETF perché non si fidava molto, molto. Mi piace questa storia perché qualcuno ti scrive le domande è la famosa ringhiera è tutto strutturato. Perché ho voluto farvi vedere questo pezzo straordinario dell'Idley Scott? Perché intanto tutti i dati che abbiamo sono che i trend della robotic substitution non riguardano solo l'advisor finanziario ma non c'è un mestiere che venga risparmiato. Questi sono i dati del World Economic Forum. Ma secondo me sono da dirvi questo che fare questo mestiere richiede di passare a quattro fasi completamente diverse del modo di usare le tecnologie dalla ripetizione cioè digitalizzazione come modo per introdurre efficienza nella gestione delle transazioni alla descrizione quindi a una versione della statistica fatemi dire con capacità di cogliere guarda caso le code grasse e fat tails alla capacità di previsione fino alla capacità di prescrizione questo mix signori deve risultare nella vostra capacità organizzativa e tecnologica perché la produzione di trust non è più un patto individuale relazionale ma è un patto organizzato i motori di fiducia sono distribuiti artificiali e non sono più sotto il controllo del vostro ingaggio col cliente mi riferisco alle blockchain agli smart contracts sul fatto che l'algoritmica l'informatica sta intervenendo sui patti fondamentali sui nessi di contratto fondamentali tra persona a persona tra gruppo e gruppo o ci occupiamo di questo oppure stiamo discutendo di come dire argomenti che hanno almeno 15 anni nella mia testa siccome data is the new money vi devo chiedere di fare questo passaggio importante capire che per un boccaniano citare Marx è un po' uno sforzo ma lo devo fare perché vi manca la teoria della domanda signori perché delle tante stupidagge che ha detto Marx due devo recuperarle la prima è che in questo contesto di risparmio la prima delle profezie di Marx cioè che se i mezzi di produzione appartengono al popolo il saggio di rendimento del capitale crolla è purtroppo vera i mezzi di produzione fondamentali per il vostro mestiere stanno nelle vostre tasche e guarda caso anche nelle tasche dei vostri clienti che hanno uno dei più potenti mezzi di generazione delle informazioni o riduzione delle asimmetrie informative mai concepito quando l'offerta non controlla più il monopolio dell'organizzazione produttiva perché è la domanda ai mezzi di produzione siamo in difficoltà a estrarre rendite secondo punto secondo la grande previsione di Marx lavoratori risparmiatori coproduttori di tutto il mondo unitevi coordinatevi ed è quello che fanno l'ending club money farm zopa stanno organizzando la domanda questa è la nuova indipendenza l'indipendenza non è fare un'offerta priva di conflitti di interesse questa è condizione necessaria ma non è condizione sufficiente la condizione distintiva è organizzare la domanda aggregare organizzare l'educazione non è un biglietto d'ingresso è una qualificazione a contribuire un processo di certificazione distribuita quindi attenti siccome i clienti oggi sulle vostre belle proposte ci mettono il dito scegliete almeno il dito che mettono perché se ci mettono il pollice siamo contenti se ci mettono l'indice vi portano anche qualche altro cliente a volte ci mettono il medio idealmente dobbiamo farci mettere l'annulare che è il senso della fedeltà e del rapporto chiudo dicendo quindi che il voto di scambio vero è la base del nuovo mercato della fiducia il social rating che dovete guadagnarvi perché verrete giudicati sulla base di quante stelle avete ecco magari non 5 necessariamente preferisco le palle almeno 3 come vi dicevo e imparate a programmare il grande robot perfetto robot della vostra vita che si chiama cliente questo è il senso perché per me fare advisory chiudo tornando indietro di 500 anni ed è l'ultima perché va bene tutta questa tecnologia ma alla fine dovete riscoprire il fascino di fare questo mestiere che è un fascino straordinario perché fare advisory è un'arte come quella di Michelangelo per via di levare altrimenti basterebbe l'intelligenza artificiale invece no serve intelligenza naturale perché è un mestiere che richiede la capacità di cogliere dentro alla pietra della conservazione dell'avversione al rischio della paura la cosa che coglieva Michelangelo quando guardava un suo pezzo di pietra questo che vedete è il San Matteo di Michelangelo che sta alla galleria dell'Accademia Firenze Michelangelo diceva la scultura è un'arte per via di levare cioè io guardo dentro questo blocco di pietra della conservazione della paura e ci vedo una energia che vuole uscire che ha una storia da raccontare che ha un futuro da dire lì c'è San Matteo con in mano il Vangelo che vuole raccontare la sua storia al mondo dico questo perché l'arte per dire è il mestiere che vi tocca togliere paure togliere disinformazione togliere bias caro Riccardo togliere una concezione del rischio come parola da abolire nelle conversazioni e liberare liberare da questa energia perché ripeto vi stiamo affidando al futuro della nazione se il cliente capisce bene se no vi autorizzo a prenderle a martellate grazie allora ecco perché abbiamo tenuto questo intervento alla fine